Salve a tutti, buon tutto. Faccio questo rile perché voglio dire alle persone che non stiamo a arrampicare sugli specchi con me. Ecco, perché io dico le cose? Perché li dico sui gruppi pubblici? Perché? Perché li dico dappertutto le cose? Non solo nei gruppi pubblici, ma anche sui profili miei, sul profilo mio, sui gruppi. Lo dico dappertutto io, le cose. Se ho da dire qualcosa io lo dico dappertutto senza vergogna. E non si è liberi sui social di fare quello che si vuole. Non si è liberi di nascondersi dietro uno schermo. Se si sta sui social bisogna essere non restrittivi, non misteriosi, mettere profili completi con informazioni complete perché io la intendo in questo modo. Bisogna condividere tutto in pubblico, per me. Ecco, non in privato. Ecco, in privato è una cosa monotona perché parli solo con una persona. Conorsi solo con la persona ma sempre se mette il profilo completo perché se no non ci va neanche a parlare in privato. Non ti è di interesse con la persona. Ecco, quindi io la penso in questo modo. I profili devono essere completi, se no non ci devono stare.